Precari della Sanità si ritorna in aula domani in riunione il Consiglio regionale emozione del Movimento 5 Stelle che chiede di stabilizzare gli operatori a partita IVA i parlamentari invitati a emendare la legge di bilancio Aumentano i ricoveri ma i numeri restano contenuti in Molise l'indice dei posti letto utilizzati è risalito al 7% ma i contagiati restano sotto controllo, i vaccini procedono spediti Sfida doppia alle elezioni provinciali, si vota il 18 dicembre per il rinnovo dei consigli a Campobasso Isernia presentate le liste, partita tra il centrodestra e il centrosinistra Campitello Matese in ritardo per la stagione invernale disagi a Campobasso a causa di chi non ha ancora le gomme termiche per la prima nevicata nelle località scistiche è partito il conto alla rovescia ma non tutti sono pronti Sicilia Amara per il basket femminile la Magnolia cede nell'ultimo quarto al Ragusa, non riesce a bissare il successo contro il Venezia e domenica arriva la capolista Schio Buon pomeriggio, ben trovati all'edizione delle 14 del nostro telegiornale un saluto da tutta quanta la redazione Partiamo con il Consiglio regionale che domani torna in riunione con un argomento sul quale evidentemente non è stata abbassata la guardia, quello della volontà di stabilizzare i precari nella sanità ci sono due mozioni, il Movimento 5 Stelle invita i parlamentari del Molise evidentemente a presentare emendamenti sulla legge di bilancio in discussione a Roma intanto noi siamo collegati con Pasquale Di Bello che si trova proprio in Consiglio regionale con un esponente del Movimento 5 Stelle Pasquale allora qual è la situazione? Sì Giovanni, domani torna a riunirsi il Consiglio regionale del Molise all'ordine del giorno sostanzialmente mozioni e interrogazioni però si tornerà a parlare di sanità perché sono state iscritte due mozioni che vanno nella direzione della stabilizzazione degli operatori sociosanitari che nel periodo acuto della pandemia hanno prestato la loro opera nelle strutture sanitarie molisane è necessario però un intervento parlamentare, questo chiede il Consiglio regionale poiché nel DDL bilancio 2022 sono previsti 90 milioni per le stabilizzazioni soltanto a favore di coloro che furono assunti a tempo determinato allora su questo è importante l'intervento dei parlamentari ci stanno lavorando anche dal Movimento 5 Stelle con noi abbiamo Angelo Primiani che già in passato si è occupato di questa vicenda quali sono le iniziative? Sì innanzitutto è bene ricordare che noi stiamo seguendo la questione sin dall'inizio ovvero sin da un anno fa circa rivendichiamo la stabilizzazione di questo personale sanitario che ha prestato servizio in prima linea durante la fase più acuta dell'emergenza oggi ci ritroviamo in una situazione paradossale perché di fatto delle risorse governative ci sono ma sono solo per quel personale assunto a tempo determinato ovvero dalla maggior parte delle regioni italiane qui in virtù di una scelta che noi non abbiamo condiviso si è preferito scegliere l'inquadramento libero professionale ovvero a partita IVA oggi quei lavoratori sono fuori attraverso la nostra delegazione parlamentare ed in particolare attraverso l'impegno dell'onorevole Antonio Federico stiamo lavorando per presentare un emendamento alla legge di bilancio che possa permettere la stabilizzazione anche di quel personale inquadrato originariamente a partita IVA parliamo di una platea solo per il Molise di 69 persone che hanno il diritto di essere stabilizzate non fosse altro perché sono stati impegnati in prima linea durante la fase più acuta dell'emergenza ecco c'è da ricordare che il Consiglio regionale si è espresso già in passato a favore della stabilizzazione con due emozioni una a gennaio del 2021 e l'altra a maggio sempre dello stesso anno vedremo domani se questa situazione avrà una accelerazione dal Consiglio regionale è tutto a voi la linea grazie Pasquale grazie anche al tuo ospite passiamo ora all'aggiornamento dei dati Covid con gli ultimi numeri che si riferiscono al bollettino di ieri eccolo qua ci sono 4 casi su 235 tamponi 8 guariti e una persona ricoverata non ci sono persone decedute le 4 persone poi ci sono ricoverate in malattia infettiva una persona è stata dimessa 9 sono guariti probabilmente la grafica non corrispondeva al dato che abbiamo ma lo aggiorneremo chiaramente in serata con i dati del bollettino di oggi indipendentemente dai numeri del bollettino dell'ASREM il fatto più rilevante è che i contagi sono in progressione in aumento in tutte le regioni in Molise i dati sono ancora contenuti ma salgono di nuovo anche i ricoveri e questo riporta l'indice delle persone che sono dei genti in ospedale al 7% rispetto ai posti letto basso rispetto ad altre regioni italiane ricordiamo che oggi il Molise il Friuli torna giallo ci sono 36 comuni del Trentino Alto Adige in zona rossa sentiamo Anna Maria Di Matteo la settimana che si è appena conclusa è stata caratterizzata in Molise da un balzo dei contagi come nel resto del paese dal 22 al 28 novembre i nuovi contagi sono stati 187 un numero sul quale ha pesato inevitabilmente anche il cluster di gulionesi che ha interessato soprattutto le scuole facendo schizzare il tasso di positività ben oltre quello della media nazionale dunque un aumento dei contagi ma anche dei ricoveri ospedalieri secondo l'Agenas l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari anche il Molise rientra tra le regioni in cui più marcato è stato l'incremento delle ospedalizzazioni e si sa che questo dato è uno dei parametri utili a stabilire il colore delle regioni le regioni in questione sono Friuli Venezia Giulia che è oggi in zona gialla Valle d'Aosta provincia autonoma di Bolzano Campania Abruzzo provincia autonoma di Trento e Veneto di queste regioni tre sono oltre il livello di allerte del 15% per quanto riguarda invece le terapie intensive il valore sale al 10% in cinque regioni mentre in Molise e Sardegna la percentuale del 7% a Cardarelli i pazienti ricoverati sono 13 di cui 12 in malattie infettive e uno in terapia intensiva sono 9 pazienti non vaccinati attualmente ospedalizzati da qui l'appello delle autorità vaccinarsi anche per evitare che salga il tasso di occupazione dei posti letto su questo versante tuttavia il Molise tra le prime regioni in termini percentuali di vaccinati è primo per quanto riguarda la somministrazione delle terze dosi mentre non sono altrettanto lusinghieri i dati che riguardano la terapia con i monoclonali il Veneto è la regione che ha trattato il maggior numero di pazienti con oltre 3.000 somministrazioni il Molise invece al penultimo posto con soli 28 pazienti trattati appunto con i monoclonali allora rivediamo i dati dell'ultimo bollettino eccolo qui non ci sono persone decedute 4 casi positivi su 235 tamponi ci sono 8 guariti e un ricovero questo allora è il dato giusto passiamo alle provinciali si va verso lo scontro tra centrosinistra e centrodestra sia a Campobasso che a Isernia si vota il 18 dicembre sono state presentate delle liste ci aggiorna tutto Enzo Di Gaetano elezione dei consigli provinciali di Campobasso a Isernia ieri sono state presentate le liste dei candidati 10 per ogni schieramento sia nel capologo regionale che in quello pentro confermate tutte le previsioni della vigilia i due schieramenti centrodestra e centrosinistra hanno voglia di vincere entrambi lo si capisce dalla composizione delle liste e dalla caratura dei candidati in campo ci sono esponenti di spicco dei due maggiori consigli comunali Campobasso e Isernia e a Palazzo Magno ci sono candidati anche per la prima volta esponenti dei 5 Stelle a dimostrazione che l'alleanza tra Civici PD e Grillini dopo aver vinto a Isernia vuole fare un test anche per le regionali e perché no pure per le politiche alla precedente tornata elettorale il Movimento 5 Stelle aveva praticamente rinunciato a partecipare alla competizione ora invece i consiglieri Grillini del Comune di Campobasso hanno scelto di scendere in campo non così a Isernia dove nessuno tra i 5 Stelle si è candidato insomma un esperimento a metà ma il segnale lanciato da Campobasso dove i Grillini guidano il Comune e ora si candidano in tre per Palazzo Magno è importante comunque in entrambe le province c'è l'ambizione del centro-sinistra a vincere pensando alle regionali e puntando a mettere in difficoltà i due presidenti Roberti e Ricci entrambi del centro-destra del tutto è evaporata la proposta di Alfredo Ricci che proponendo un listone unitario territoriale avrebbe voluto evitare uno scontro tra i due schieramenti che potrebbe farlo finire in minoranza se in via aberta vincesse il centro-sinistra io fino all'ultimo non ho pensato di scongiurare il rischio anatrazzoppa anche perché è tutto da vedere oltretutto il concetto di anatrazzoppa sulla provincia è molto differente perché l'equilibrio previsto dalla legge del Rio tra i vari organi della provincia è diverso da quello che c'è nei comuni io ho provato fino all'ultimo a lavorare per una lista dei territori una lista che potesse rappresentare tutti i territori non soltanto i territori dei comuni più grandi ma soprattutto i territori dei comuni più piccoli quelli che sono penalizzati dal voto ponderato pensato dalla legge del Rio e che però hanno più bisogno della provincia quella era la sfida che io avevo lanciato molti sindaci devo dire che l'hanno raccolta alla fine hanno prevalso però alcune logiche più politiche legittime chiariamoci legittime però secondo me è stata un'occasione persa per i nostri territori oggi prima nevicata della stagione una nevicata tra l'altro annunciata con le previsioni del tempo che mettevano neve sul campo basso e provincia ci sono ancora gli indisciplinati automobilisti che tardano nel montare le gomme termiche a questo è imputabile il caos che si è creato a metà mattina anche nella zona dell'ospedale quello che invece ora preoccupa è il ritardo con cui Campitello Matese si sta preparando a far partire la stagione invernale sentiamo una corsa contro il tempo mentre la neve ha anticipato tutti le immagini si riferiscono alla imbiancata prima della stagione di questa mattina su Campobasso e provincia soliti disagi in città e qualche tamponamento per via del mancato montaggio delle gomme termiche alla rotonda dell'ospedale auto di traverso hanno impedito perfino il transito delle ambulanze una nevicata che però ha fatto drizzare le antenne soprattutto sulle condizioni delle due principali località sciistiche della regione Campitello Matese e Capracotta quella dell'Alto Molise è la situazione più tranquilla e se le condizioni climatiche lo permetteranno l'8 dicembre tutti sugli sci a Monte Capraro ha spiegato il sindaco Candido Paglione sono stati messi in sicurezza la sciovia e la seggiovia per lavori che hanno comportato una spesa di 500 mila euro piccoli interventi hanno invece interessato Prato Gentile per gli appassionati del fondo ma per la prima volta ha aggiunto Paglione il segnale incoraggiante è arrivato dai tecnici della Matese Schi la società che si è aggiudicata alla gestione degli impianti ma se a Capracotta aspettano solo la neve diverso lo scenario a Campitello Matese dove secondo alcune fonti un problema di allaccio della corrente elettrica starebbe rallentando le operazioni per la manutenzione straordinaria della seggiovia di Monte del Caprio per la quale è già stanziato un intervento di 1 milione e 400 mila euro per sostituire il tirante in acciaio e consolidare uno dei piloni i lavori in questo caso sono in carico alla funivie del Molise che però come ha anche sottolineato il sindaco di San Massimo Alfonso Leggeri tardano in maniera preoccupante la questione è seguita anche dal consigliere regionale 5 Stelle Angelo Primiani che ha presentato una interrogazione se non arriverà l'autorizzazione per Monte del Caprio entro il 31 dicembre ha spiegato Primiani l'impianto non potrà essere aperto funzioneranno comunque gli impianti bassi di San Nicola e Lavarelle che però non possono essere certo competitivi con le vicine località dell'Abruzzo e dopo lo stop per la pandemia Campitello Matese rischia di restare al palo per la lentezza della burocrazia si svolgeranno domani a Riccia nella chiesa Beata Vergine del Carmine i funerali di Alfonso Sedati medico stimato da tutta la comunità e non solo non dimenticheremo la sua vicinanza e l'amore per la terra hanno scritto il sindaco e l'amministrazione comunale alle condoglianze alla famiglia si unisce la consigliera regionale del PD e l'ex sindaco di Riccia Micaela Fanelli le esecue si svolgeranno alle 11 il cordoglio anche da parte della redazione di Telemolise e la CIA degli agricoltori l'organizzazione di categoria ha promosso un incontro che si è svolto a Larino nel quale si alza un muro contro l'illegalità ce ne parla in questo servizio Francesca Danversa la CIA agricoltori italiani del Molise scende in campo per dire no alla malavita organizzata lo fa a gran voce e senza paura questa mattina nella sala della comunità nella sede del melograno a Larino si è tenuto l'incontro imprenditori agricoli trincea di legalità è un fenomeno a cui noi pensavamo fossimo indenni invece purtroppo stiamo riscontrando che non è così durante il lockdown diciamo che abbiamo avuto un po' di fermo ma oggi si stanno riproponendo varie incursioni soprattutto alle regioni limitrofe Campania e Puglia che mettono a serio rischio le imprese agricole la malavita agisce attraverso furti di attrezzature agricole con la proposta del cavallo di ritorno ma anche di società che esurpano i terreni per il fotovoltaico proponendo offerte esorbitanti agli agricoltori approfittando della delicata situazione economica che spesso li porta a cedere a questi ricatti la CIA Molise ha detto il direttore Donato Campolieti non è contrario alle energie rinnovabili lo è all'esurpazione dei terreni agricoli per la realizzazione degli impianti che comporta una sterilizzazione del terreno strumento necessario per il lavoro delle aziende agricole presenti all'incontro il sindaco di Larino Pino Puchetti Giovanni Mancinone autore del libro Molise e criminale Mario Luzzi commissario di Polizia Don Antonio Di Lalla e il senatore ex presidente della commissione antimafia Giuseppe Lumia a moderare la giornalista Valentina Fauzia la società ha detto il senatore Lumia può fare tanto per combattere le mafie prima di tutto conoscere il fenomeno non pagare il pizzo rispettare le regole impegnarsi nel sociale e scegliere la propria classe dirigente al di là delle appartenenze che sappia coniugare legalità e sviluppo oggi c'è sempre maggiore conoscenza della criminalità organizzata soprattutto tra i giovani le scuole ha continuato Lumia hanno fatto un grande lavoro sono le istituzioni più avanzate insieme alla realtà del volontariato abbiamo la possibilità di comprendere il fenomeno e agire in profondità la CIA in particolare il direttore Dino Campolieti stanno facendo di tutto perché il mondo agricolo non si è abbandonato a se stesso ma la campagna non sia terra di nessuno ma sia una grande risorsa di legalità di sviluppo e quindi bisogna fare in modo che gli agricoltori abbiano tutti gli strumenti per reagire e per fare in modo che il loro prodotto sia valorizzato e diventi il bene più prezioso che è il nostro paese e intanto il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero Derao sarà mercoledì all'università a Campobasso per una conferenza sulla legalità come cura della libertà dell'uomo l'evento è in programma alle 11 nell'aula magna dell'Ateneo e tornato l'appuntamento in questo fine settimana con la colletta alimentare in tanti hanno riempito le buste della spesa nei supermercati della regione sono state raccolte 33 tonnellate di merce sentiamo il dettaglio nel servizio di Alessandra Potena 1000 volontari e 50 supermercati coinvolti torna dopo un anno di stop causato dalla pandemia la colletta alimentare quest'anno è la 25esima edizione dell'iniziativa che si è svolta in presenza in tutta Italia e la risposta dei molisani non si è fatta attendere secondo la prima stima della European Food Bank Federation sono state donate 33 tonnellate di alimenti di cui 29 nella provincia di Campobasso e 4 in quella di Isernia grande l'impegno dei volontari che sabato hanno presenziato i supermercati del Molise per la raccolta per i più bisognosi a causa della pandemia il numero dei poveri in certezza economica sono aumentati e l'iniziativa promossa dal Banco Alimentare è stata un aiuto concreto in un momento così particolare i molisani hanno dimostrato generosità e umanità nei confronti di chi vive una situazione di precarietà e stabilità anche in questa particolare edizione della giornata nazionale della colletta alimentare ha commentato Antonio Dionisio presidente del Banco Alimentare Abruzzo e Molise abbiamo visto più che mai la bellezza negli occhi dei volontari e di chi da anni sostiene l'iniziativa bellezza che ci permetterà di continuare ad aiutare chi aiuta olio tonno e carne scatola omogenizzati e prodotti a lunga conservazione raccolti sabato verranno distribuiti nei prossimi giorni nelle 40 strutture caritative del territorio che si occupano di 5.818 persone bisognose per chi vorrà sarà possibile continuare a donare online sul sito dedicato fino al 10 dicembre domani invece la giornata del dono chiunque potrà offrire oggetti azioni o anche il proprio tempo con le sue competenze rendendolo noto sui social con l'hashtag Giving Thursday oppure potrà andare sulla piattaforma ungiornoperdonare.it aderire alle campagne già in corso ce ne parla Marta Martino La generosità può diventare contagiosa questa è la convinzione alla base del martedì del dono il Giving Tuesday che cade il 30 novembre nato nel 2012 negli Stati Uniti come risposta alla spinta consumistica infatti cade esattamente dopo il Black Friday il Cyber Monday quando tutti corrono ad acquistare beni a prezzi scontati il movimento del Giving Tuesday martedì del dono in pochi anni è diventato un movimento mondiale condiviso e diffuso su tutti i social media tanto che l'edizione del 2017 ha raggiunto più di 150 paesi nel mondo e milioni di persone tutti senza distinzioni sono incoraggiati a donare e a partecipare ai progetti di solidarietà ma attenzione non si parla solo di dono in denaro perché la generosità va ben oltre si può donare anche il proprio tempo oggetti cari o le proprie capacità professionali ed è proprio questo il motore di tutta l'iniziativa credere che la solidarietà possa cambiare il mondo la generosità incoraggia la cooperazione si può donare speranza donare amore donare un sorriso in Italia sono oltre 230 le organizzazioni non profit che hanno aderito alla celebrazione della giornata promuovendo progetti di solidarietà e raccolta fondi con il crowdfunding sulla portale ungiornoperdonare.it anche il Molise con il suo ambasciatore sul territorio Gianluca Pretano si sta muovendo perché presto siano presenti sulla piattaforma anche i progetti sul territorio al momento chi volesse aderire alle varie campagne si può collegare alla piattaforma e scegliere il progetto che più lo ispira dall'aiutare papà in difficoltà ai gatti randaggi coloro che invece volessero aderire all'iniziativa personalmente potranno farlo attraverso i loro social mettendosi a disposizione per qualcosa con l'hashtag Giving Tuesday e potrà essere l'avvocato che per tutta la giornata di martedì sarà a disposizione gratis per un consulto o l'artigiano che metterà a disposizione la sua opera il volontario che andrà a donare il sangue il fornaio che vorrà donare il pane tutti potranno nelle loro possibilità e capacità aderire alla giornata del dono e cambiare anche solo per un giorno la vita di chi gli sta intorno le associazioni del terzo settore hanno poi un'occasione in più possono direttamente proporre le loro campagne sul sito ungiornoperdonare.it con il metodo del crowdfunding e questo fino al 22 febbraio domani invece al dipartimento di scienze umanistiche dell'università a Campobasso verrà inaugurato il laboratorio di comunicazione intitolato a Federico Fellini la struttura è stata allestita grazie a una convenzione con EURES la rete europea dei servizi per l'impiego coordinata dalla commissione europea il laboratorio si propone come struttura di riferimento per le attività di produzione proiezione visione ascolto e analisi dei materiali audiovisivi del corso di studio in scienze della comunicazione e ora a Venafro dove il parco degli ulivi è stato inserito tra i paesaggi storici e rurali d'Italia un riconoscimento importante sia per quanto riguarda la promozione turistica che invece quella del territorio dell'ulivo in sé ne è stata data notizia nel tradizionale appuntamento con la rassegna Venolea ce ne parla la nostra redazione di Serni il parco dell'olivo di Venafro è entrato stabilmente a far parte dell'associazione nazionale dei paesaggi storico rurali italiani un'associazione riconosciuta a livello governativo e inserita nella futura programmazione per promuovere la valorizzazione di territori finora marginali la notizia la data Emilio Pesino presidente del parco in occasione del tradizionale appuntamento annuale con Venolea la mostra dell'olio tipico venafrano di qualità pregiata e rinomata questa iniziativa è focalizzata soprattutto sui paesaggi rurali storici e sulla nascente associazione dei paesaggi rurali storici il cui primo evento c'è stato a Firenze all'inizio mese questa aggregazione rappresenta diciamo una fase successiva tutte le politiche ambientali di tutela del territorio svolte finora perché proietta diciamo questa realtà in ambito nazionale definitivamente visto che d'ora in poi tutte le iniziative di tutela di questi paesaggi marginali ad olivicoltura ambientale e anche ad altro tipo di coltivazione sono come sappiamo destinati all'abbandono se non si interviene con politiche ad hoc il cambio di passo che può interessare il territorio venafrano il bacino culturale ed archeologico in cui è inserito lo ha spiegato bene una ricercatrice dell'università Roma 3 ascoltiamola parliamo di tutti i paesaggi rurali di interesse storico del centro sud Italia perché hanno delle caratteristiche comuni e possono essere proprio anche il volano per un recupero una valorizzazione anche una promozione di tipo sia turistico che economico dei territori e di queste aree interne presente a Venole ha anche Vittorio Anola consigliere regionale di Venafro che ha lanciato la proposta di unire l'offerta del parco dell'olivo a quella del parco delle pietre il parco regionale storico dell'olivo fa parte di tutto il progetto parco delle pietre di cui è capofile il comune di Firignano insieme col parco nazionale del Gargano e due comuni della Puglia questo che cosa consentirà considerà finalmente anche a noi di avere un percorso di trekking che va proprio da Venafro a Conca Casale a Filignano pensate che tutto il progetto riguarda 138 km di percorsi con muretti a secco quindi è veramente molto molto particolare intervenuto anche in rappresentanza della regione il vicepresidente Cotugno che ha sottolineato come oramai il parco dell'olivo e la cultura tipica della zona siano poste nella massima attenzione da parte della programmazione regionale anche da un punto di vista di turismo enogastronomico è un prodotto che va assolutamente valorizzato e va portato avanti con lo stesso impegno che stanno facendo con il parco regionale dell'olivo qui a Venafro ma in tutta la regione perché è uno degli elementi caratteristici del nostro territorio e ora parliamo di Mazza Mauriello un folletto un personaggio di Campobasso storico riscoperto anche dagli alunni della Petrone che lo hanno portato in scena con il loro spettacolo vediamo il servizio di Patrizia Testa un folletto burlone che abitava nel centro storico di Campobasso vicino al castello Monforte occhi vispi lentiggini sul viso e in testa un cappello rosso acceso nella tradizione campobassana questo folletto si chiama Mazza Mauriello una nota leggenda che ha ispirato lo spettacolo messo in scena dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo statale Igino Petrone di Campobasso un progetto dal titolo Suoni e sonetti di un folletto un lavoro di tipo multidisciplinare che utilizza il linguaggio della musica della danza del teatro che sono tutte forme espressive che sintetizzano perfettamente lo studio delle emozioni e della gestione delle emotività orientate innanzitutto a favorire la socializzazione all'interno del contesto scolastico ma anche a garantire la manifestazione sana della propria individualità il progetto è stato realizzato grazie al finanziamento Scuolab della regione Molise e la nostra scuola devo dire ha colto appieno questa grande opportunità realizzando un vero e proprio percorso sperimentale che ha visto la partecipazione di un grande numero di docenti e di alunni che si sono avvicendati in questi mesi e che si intersega perfettamente all'interno della nostra offerta formativa di istituto la rappresentazione si è svolta nell'auditorium della scuola i ragazzi sono tornati a vivere momenti di socialità con le dovute precauzioni visto il periodo storico delicato sul palco si sono esibiti leggendo testi recitando e suonando diretti con passione dagli insegnanti c'è stato innanzitutto un lavoro antropologico sulla figura di questo Mazzamauriello sulla leggenda e qui c'è stata tutta una raccolta di fonti quindi in biblioteca abbiamo cercato degli elementi che ci potessero indicare cosa era per Campobasso questo folletto dopodiché abbiamo cercato noi con gli strumenti musicali di ricreare delle situazioni ambigue che suscitano delle emozioni i ragazzi hanno steso il copione insieme agli insegnanti hanno creato tutte queste scenografie ben era l'ultimo servizio dell'edizione di oggi ci fermiamo vi lascio alle previsioni del tempo ci ritroviamo tra poco più di mezz'ora per gli aggiornamenti e tutto dalla redazione buon pomeriggio di ricreare di ricreare